Divieto di vendita di prodotti derivati dalla cannabis lo ha stabilito una sentenza a sezioni unite penali della Corte di Cassazione, creando il caos fra tutti coloro che hanno affrontato anche pesanti investimenti per aprire delle attività. Varie decine di questi solo nell'area metropolitana tra Chieti e Pescara. Alcune hanno preferito restare chiuse, altre hanno regolarmente aperto in attesa comunque di chiarimenti. Del resto è la stessa sentenza della Suprema Corte che indica un vuoto normativo, specie sulla questione del principio attivo. Da una parte il cosiddetto CBD sotto la soglia dello 0,5, dall'altra il THC che supera questa soglia. Nel mezzo una grande varietà di infrarescenze che viaggiano sul filo e che comunque andrebbero controllate produttore per produttore. Intanto il business della cannabis leggera nell'ultimo anno ha avuto una crescita esponenziale, creando economia, franchising, posti di lavoro ed ora... Siamo preoccupati però siamo comunque nell'incertezza. Ovviamente la legge è legge, però allo stesso tempo noi non commettiamo illecito, visto che trattiamo prodotti che non hanno un'efficacia drogante, non sono prodotti che drogano o che provocano sballo. Al momento siamo in attesa di sapere di più ovviamente dai vari organi della legge e niente, siamo qui, siamo aperti come potete vedere e noi non ci sentiamo in difetto, anzi paghiamo le tasse, quindi assolutamente. E come dicevo prima anche siamo aperti da un anno e mezzo e al momento nessuno ci ha mai vietato o è mai venuto qui a dirci che non potevamo stare aperti o non potevamo vendere i nostri prodotti. Questo cannabis store qui in Via Milano a Pescara, la chiusura è anche in qualche modo motivata, perché leggiamo qui a seguito della sentenza della Corte di Cassazione di ieri 30 maggio 2019, in attesa di valutare e conoscere le motivazioni siamo costretti a sospendere la vendita di infiorescenze, resine e d'oli che pure, lo ribadiamo per la tranquillità della nostra clientela, sono privi di effetti droganti. Ci sono poi tutte quelle attività che già da tempo hanno diversificato la vendita, spaziando su prodotti di coltivazione in generale e rispedendo al fornitore le infiorescenze come Vincenzo Ambrosio di Idroponica a San Giovanni Tiatino. Tutta la filiera e altri negozi che erano specializzati in questo, comunque erano stati dei posti di lavoro, persone che avevano necessità, che hanno fatto investimenti grossi, anche di attrezzature costose, comunque hanno fatto dei mutui, alcune persone, finanziamenti, non so chi glieli giustificherà.